Come abbiamo detto, uno dei fattori che contribuiscono principalmente alla malattia è lo stress. Per un motivo semplice, quando gli ormoni dello stress vengono rilasciati nel corpo, chiudiamo i meccanismi di crescita che sono responsabili della popolazione di miliardi di cellule. Ma c'è un ulteriore effetto che ha un effetto ancora maggiore sulla malattia, l'HPA, ed è l'influenza del sistema immunitario. Gli ormoni dello stress chiudono il sistema immunitario, lo bloccano. Perché? La risposta è che rilasciamo gli ormoni dello stress perché cerchiamo di affrontare un problema nel mondo esterno che ci minaccia in una situazione stressante. Ma il sistema immunitario è nel corpo per proteggerci dai problemi che nascono dentro. E quindi qual era l'effetto primario di questi ormoni dello stress rilasciati nel corpo? E' portare il sangue alle gambe e alle braccia per avere più energia per combattere o scappare. Ma allora entra in gioco il sistema immunitario. Il sistema immunitario utilizza una quantità significativa di energia nello svolgere le sue funzioni. Beh, l'ultima volta che vi siete ammalati eravate stanchissimi, a volte così stanchi, che non avevate l'energia per alzarvi dal letto. Il punto è che il sistema immunitario utilizza molta energia. E allora dice, perché devo inibire il sistema immunitario con l'ormone dello stress? La risposta è semplice. Il compito che ti do è quello di gestire la distribuzione dell'energia. Allora, c'è un tavolo con un telefono, vai lunedì mattina a lavorare, riceve una telefonata dallo stomaco. Lo stomaco dice, guarda, abbiamo un'infezione batterica, magari è un caso di diarrea. Quanta energia mi puoi mandare per combattere questa infezione? Allora, chiudi la telefonata, vai a fare il calcolo della quantità di energia e a questo punto arriva un'altra telefonata e ti dice, guarda, siamo inseguiti da due tigri, devo avere tutta l'energia che hai a disposizione. Sei tu incaricato di distribuire l'energia. Allora, quanta energia manderai a combattere i batteri e quanta energia manderai alla fuga dalle tigri? La risposta è ovvia. Al diavolo i batteri. Quello non è un problema, perché se la tigre ti morsica, è finito lì il gioco. La risposta è che non dobbiamo affrontare il sistema immunitario e le sue richieste quando dobbiamo scappare da una tigre. E quindi, in questo caso, il compito è quello di chiudere i canali di energia usati dal sistema immunitario e di conseguenza dare più energia per fuggire dalla tigre. Beh, questo è un problema. Molte persone lo provano, questo è un problema. Beh, quando sono stato particolarmente stressato è che mi sono ammalato. Ah, è lì che ho preso il raffreddore o cose simili. Questa è un'altra informazione importante. Quasi tutti gli esseri umani, se io testassi il sangue, troverei parassiti, batteri e virus. E uno dice, beh, io mi sento in buona salute. Al momento è in forza. Ma cosa vuoi dire che ho un'infezione? Beh, però vi dirò qual è il nome che la scienza dà a questi organismi. Gli chiama organismi opportunisti. Che cosa significa? In un corpo sano, gli organismi possono comunque esistere, ma non possono proliferare e crescere. Vengono soppressi dal sistema immunitario. Nel momento in cui uno è sotto stress e la sorverianza del sistema immunitario viene spenta, questi organismi colgono l'opportunità per crescere e proliferare. E improvvisamente la persona inizia a esprimere la malattia nel corpo. E quindi è interessante riconoscere il fatto che, sebbene crediamo di prendere malattie dagli altri, la realtà è che quasi tutti hanno tutti i patogeni nel corpo che già causano gran parte delle malattie umane. Quindi in sostanza abbiamo un sistema che cerca di conservare l'energia in una situazione di stress che spegne la crescita, che compromette la salute perché non sostituiamo le cellule e spegne il sistema immunitario, che offre l'opportunità alle infezioni di proliferare. E allora perché l'evoluzione ci ha portato a un sistema del genere dove lo stress interferisce così tanto? Ebbè, quando questo corpo è evoluto milioni di anni fa, non avevamo gli stress che abbiamo oggi. Certo, c'era sicuramente la tigre dei denti di sciabola, ma la cosa interessante è che una volta scappati dalla tigre non c'era più stress. Quindi nella storia lo stress era presente solo per brevi periodi di tempo. Lo stress serviva per scappare dalla tigre. Nel mondo di oggi invece la storia è completamente diversa. Oggi lo stress esiste 365 giorni all'anno. Il continuo rilascio di ormoni dello stress nel corpo ci debilita a livello cronico. Ed ecco perché la popolazione si ammala sempre di più. Tutta la popolazione. Perché? Perché la popolazione intera si trova di fronte agli stessi stress per poter sopravvivere nell'accevità che ci siamo creati. Questo è un concetto interessante e alla base c'è il fatto che lo stress non è stato pensato per il mondo di oggi. È stato pensato per un'era più semplice e il corpo non è stato progettato per gestire lo stress cronico che abbiamo oggi nel mondo. Beh, abbiamo osservato l'HPA, eccetera, questo axe HPA. Ci sono due fattori fondamentali che accadono. Soprattutto si spegne il sistema immunitario. Questo danneggia il corpo. Ma vorrei parlare della terza conseguenza dello stress che significa aggiungere insulti al danno. E su cosa si basa questo concetto? Quando ci si trova in una situazione di stress non si usa l'elaborazione cerebrale conscia per gestirlo perché è lenta come attività, questa attività conscia. In una situazione di stress si passa al comportamento riflesso dal cervello posteriore che è basato su un comportamento reattivo e non creativo. davanti invece abbiamo la sede della creatività. Quando siamo in stress, in realtà, facciamo sì che il sangue vada dalla parte anteriore del cervello alla parte posteriore. Lo stesso meccanismo che fa sì che i vasi sanguigni si contragano. lo stesso meccanismo chiude i vasi ematici nella parte frontale del cervello e aumenta il flusso ematico nella parte posteriore del cervello perché la coscienza è dove c'è l'intelligenza e se chiudiamo la coscienza diventiamo meno intelligenti. Questo succede quando siamo sotto stress. E per farvi capire quanto è efficace la risposta allo stress vi dirò qual è l'impatto nella nostra biologia. Forse vi ricordate questo gioco Pac-Man. Allora, P indica il giocatore. L'idea era quello di ingoiare tanti più pallini possibile lungo il percorso prima di essere attaccati dal fantasma, la G. Il problema è che quando gli scienziati hanno studiato le persone che giocavano a Pac-Man questo è quello che hanno visto in origine. Hanno visto che quando il fantasma era lontano il giocatore usava la parte anteriore del cervello per pensare a un piano cosciente su come giocare. il giocatore era cosciente di dover andare in questa direzione e poi in quell'altra quindi pianificava in anticipo vedendo il futuro in quel punto. Vedete anche all'attacco perché la concentrazione dell'attività si riflette sull'immagine e sulla parte rossa che è nella parte anteriore del cervello ma poi succede qualcosa ovvero se il fantasma si avvicina di due centimetri dal giocatore improvvisamente c'è un cambiamento radicale sul funzionamento del cervello del giocatore guardate che cosa succede se facciamo la scansione cerebrale del giocatore quando il giocatore è a due centimetri di distanza dal fantasma guardate un pochino non c'è attività nella parte frontale del cervello adesso l'attività è tutta nella parte posteriore che cosa significa? significa che il giocatore sta giocando in modalità reattiva e non in modalità creativa e cominciamo a renderci conto che man mano che si accumulano le minacce non usiamo più l'intelligenza della parte anteriore del cervello dove sta la coscienza ma ci diamo al comportamento riflessivo, di riflesso allora lo stress interrompe la crescita del corpo spegne il sistema immunitario che sono la causa collettiva della malattia e in terzo luogo lo stress ci rende meno intelligenti perché non operiamo più dalla mente conscia lo stress semplicemente è la causa principale della malattia che è la causa principale della malattia